Dottoressa Corazza, oggi giornata mondiale senza tabacco, una ricorrenza che ha intanto lo scopo iniziale di invitare i fumatori a evitare almeno per 24 ore la sigaretta, ma ha uno scopo ben più profondo che è quello di togliere definitivamente questo vizio. Ecco, una cosa importante che dobbiamo ricordare e dobbiamo dire, non si parla di vizio ma dobbiamo parlare di dipendenza. L'Organizzazione Mondiale della Sanità afferma che pur fumarsi una sola sigaretta al mese è dipendenza. Quindi il concetto che noi cerchiamo di far passare ai propri ragazzi è quello che il fumo non soltanto fa male all'organismo ma anche all'ambiente. I fumatori sostengono che è difficile togliere questa dipendenza se non addirittura impossibile, è così? No, bisogna lavorarci. Noi portiamo avanti anche dei gruppi di disossifazione dal fumo che sono dei gruppi focali e quindi ci focalizziamo soltanto su quello che è il problema fumo. Dobbiamo dire che abbiamo delle alte percentualità di riuscita, su 10, 8 almeno smettono di fumare. E qual è il protocollo per iniziare questo percorso? Di sicuro la motivazione. Quindi ognuno di noi deve essere motivato affinché non smetta per sempre di fumare. Facciamo un piccolo colloquio motivazionale, cerchiamo di capire se la persona può essere inserita o meno all'interno dei gruppi e dopodiché partiamo. Sono nove incontri in totale e la riuscita di solito è positiva. Abbiamo visto che oggi sono presenti anche i bambini delle scuole medie. Come mai si parte da così piccoli a sensibilizzare questi bimbi? Prevenzione primaria si parte pure nella scuola materna. Noi facciamo prevenzione ad ampio raggio in tutto il territorio dell'agrigento, partendo dalla scuola materna fino a raggiungere le scuole superiori. Di solito ci focalizziamo molto per quanto riguarda il tabaggismo sulle scuole elementari e medie. Con l'Inveges per esempio abbiamo sempre lavorato, ci siamo sempre trovati bene grazie alla dirigente che ci ha sempre dato questa opportunità, queste porte aperte. Perché naturalmente per lavorare con i ragazzi dobbiamo avere anche un ventaglio di aspettativa e dobbiamo fare in modo che questi ultimi raggiungano una certa consapevolezza per far sì che il fumo fa male e che fumo non è uguale a soltanto cancro, fumo è uguale a tante altre patologie, pure cardiovascolari. Quindi fare una prevenzione significa fare prevenzione ad ampio raggio. Avete organizzato dei laboratori particolari per far capire questa tematica? Sì, abbiamo fatto dei piccoli giochi, il gioco dell'oca, ma ad ogni casella con delle piccole domande cercavamo di far comprendere quali fossero i danni dando delle risposte opportune che venivano dati dai ragazzi stessi naturalmente. Non è la prima volta, il primo anno che noi partecipiamo come scuola a queste iniziative proposte dalla LIRTE proprio come attività di prevenzione partendo da questa età così perché con la consapevolezza che è proprio questa la fase in cui bisogna iniziare a far capire l'importanza della prevenzione. Questa giornata è anche l'incontro finale di un progetto iniziato a scuola durante l'anno che si chiama Io scelgo di vivere bene. Di cosa parlava il progetto? Il progetto era centrato proprio sulla prevenzione dell'uso delle sostanze che possono recare un documento alla salute delle persone. Quindi non solo il fumo ma anche il tabacco, l'uso di sostanze nocive che inevitabilmente portano e causano dei malesseri all'organismo. Vice sindaco, oggi anche lei qui alla LIRTE per la giornata mondiale senza tabacco, come hanno reagito questi bimbi all'iniziativa? Bene, nel senso che li ho seguito. Intanto hanno fatto delle attività ludiche perché attraverso il gioco che si possono promuovere meglio certi comportamenti di buona salute. Poi li ho trovati ovviamente molto coinvolti anche emotivamente, molto sensibili al tema. Li abbiamo chiamati ambasciatori contro il fumo e quindi a loro questa cosa è piaciuta molto. Ovviamente di queste iniziative se ne fanno tante e bisogna che se ne facciano sempre di più. La LIRTE in questo è proprio apripista e quindi la presenza del Comune qui oggi è a sostenere, siamo qui oggi per sostenere questa importante azione di prevenzione che viene fatta dalla LIRTE nel nostro territorio. La LIRTE in questo è la LIRTE in questo territorio.